Questa bella pesta è l'interno della foresta, prima che prevalori da Friuli Ricci. Il nostro carnaval è di carta, è famoso in tutto il mondo, tra la carta pesta e la carta che nasce negli alberi, così bisogna divestire attuali e non le corone tanto male. Sì, sì ma, cominciamo in una palestra con un rastro che fanno per creare la carta che si trasforma in giornali, che a loro vita si trasforma in colore. Il carnaval è in questa bella pesta, come dice il titolo. E' proprio questo portato al contrario di quello che si fa di solito, cioè di creare una facile idea, eppure lo soggetto, il minuto, è stato col fatto, ho voluto creare un grande istituzione, ho voluto che il primo impatto fosse quello in grande caso. Questo portato a spingere il spetticore a guardare, a cercare, a entrare almeno con la netta, in questa bella pesta, e l'immagine che ho voluto dare è questa a questa. è quella, in questa decisione di insieme, insieme, metri e simmetrie, gli oggetti che appartiene, non legano agli altri. Ed è l'incredizione che, per un po' fortemente, ho voluto, ho cercato. C'è un motivo per tutto questo. Infatti il titolo dice che questa bella pesta inizia nella foresta inizio a cui mi rifisco quello del nostro carnevale, il nostro carnevale, nato dagli alberi perché la pesta che adoperiamo da lì da nasce. E quando sono inizio, di cui c'è la tutta al buvo, nel mezzo, con il corpo dolce sembra più grosso.